desktop minore di spent class uguale notification barra spam beat segui passione inter.com su tutti i social gazzetta cerixlin copia imbedo copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the facebook help center for more information.chiamarlo esordio stona un po i tifosi nerazzurri ricordano bene le prestazioni di radian angolan sul prato di san siro solo che sarà la prima volta in cui non se lo ritroveranno contro punto come ricorda il corriere dello sport infatti inter parma sarà l'occasione per i tifosi dell'inter di vedere al meazza i nuovi arrivati. in primis il ninja nuovo benemino arrivato dalla roma a milano ha già segnato tre volte con due vere e proprie perle realizzate il 26 febbraio 2017 quando i giallorossi si imposero per 3 a 1 contro gli uomini dell'allora tecnico pioli contro l'inter poi segnò anche il 25 aprile 2015 in un altro match però perso dalla roma per 2 a 1. ora però il ninja vuole scoprire che effetto fa segnare al meazza con il supporto dell'intero stadio contro il parma proverà a far esplodere di gioia i suoi nuovi tifosi punto tutte le news sull'inter in tempo reale iscriviti al canale telegram di passione inter.com raffina show gioca con un bimbo e calcia il pallone su un albero. desktop minore dispend class uguale notification barra span raffina che ghef il pallone finisce sull'albero e il bimbo. gazzetta cheryx link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. see the facebook help center for more information.